Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono King e vi do il mio benvenuto sul mio canale King's Arts e come avete detto dal titolo andremo a riverniciare con l'aerografo Verniciare con l'aerografo non è soltanto un'alternativa al verniciare a pennello ma è anche una forma d'arte e oggi la andremo a applicare sulla mid solo di una Jordan 4 Pure Money Per andare a mascherare tutta la tomaio andremo a usare pellicoli trasparenti, scotch cart e... accidenti che cosa l'uno... parecchie ore di mascheratura passiamo finalmente iniziale, prima cominceremo con la lucidatura della midsole e poi con il colore ufficiale Ciao! Ciao! Ok, la lucidatura è stata completata, adesso andremo a riempire la vaschetta di colore bianco e poi cominciamo la verniciatura e poi cominciamo la verniciatura Ciao! 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 Adesso andremo a passare alla barriera protettiva spray e useremo questo matte finish della Krylon Grazie a tutti